buongiorno eccoci qua con il video riassunto della settimana appena passata allora oggi 25 novembre sabato sempre fra un mese solo un mese e natale pure se qui le luminarie stanno già su da qualche giorno per permettere alla truppa di don matteo di girare delle scene ambientate proprio nella festa più attesa dai bambini comparse molte tante gratuite che hanno partecipato per il solo piacere di esserci la slitta di babbo natale un paio di piazze chiuse tanti tanti curiosi fuori dalle piazze a vedere cercare di vedere i divi del momento dunque i turisti che ci si sono trovati lì da quelle parti hanno apprezzato forse sarebbe il caso anche di comunicare al mondo del turismo che qui si gira la storia le scene del prete detective magari aiuta a portare qua qualche persona in più cominciamo subito con le segnalazioni la prima quella di giustino rotondi che segnala una panchina al via della stazione che è stata proprio divelta e serve a rimetterla a posto poi c'è lorenzo giannulsini che ci tiene aggiornati sul sugli sviluppi dei del traffico soprattutto dei parcheggi nella zona di piazza tra libertà poi a parlare di immondizia oggi tocca a laura moretti poi a luca zannoli che ha scoperto un signore che scarica abusivamente sacchi di monnezza per strada ha fatto anche le foto valerio gandola gandola forse ringrazia perché la sua segnalazione ha avuto buon esito e la zona di cui ha scritto è stata completamente ripulita lo stesso valerio però ci informa che un lavoro del genere servirebbe ugualmente anche in via viso ci hanno dato le foto proprio brutto carla binaglia segnala un disservizio via monterone sono un po di monnezza per strada quella è una delle vie d'accesso di turisti che arrivano in città paolo calandri girando per strada addirittura ha trovato una ruota di auto buttata in una zona proprio a ridosso del centro monia cavadenti offre il lavoro per un pasticcere magazziniere e un addetto commerciale chi fosse interessato può inviare il curriculum tanti nuovi iscritti al gruppo ci fa piacere vanno a compensare qualcuno che decide di andarsi altri che vengono rimossi per aver contravvenuto alle poche semplici regole silvia grubini ci informa che ci sono delle zone adibite a parcheggio che sono molto malmesse chiede giustamente di sistemare poi c'è valeria formica che ha notato un marciapiede che ha bisogno di energia sistemazione ne va della sicurezza dei pedoni in molti grazie a una segnalazione di daniela durante hanno voluto ricordare eugenio monti colla e le sue marionette che per tanti anni sono stati presenti agli spettacoli del festival a me è sfuggito i giorni scorsi un po un posto che ritengo non appropriato l'ho rimosso in molti hanno commentato qualcuno ha apprezzato altri un po meno però va bene così con quasi 6.000 persone iscritte a questo gruppo i bazzi che andano da queste parti la situazione secondo me è pure troppo tranquilla manteniamocela se possiamo poi c'è francesco maria scarabottini che suggerisce di non lasciare solo le persone a rischio truffa perché il pericolo è sempre presente sono state avvistate delle persone insomma che sembra che fanno questa attività a tempo pieno lisa potter cerca amici per acqua gym ne ha trovati però c'è posto anche per altri giorgio donati sta valutando di trasferirsi con la famiglia dal lazio dove abita adesso a spoleto chiede consigli in molti hanno risposto nino montanari segnala invece la scomparsa di una panchina piazza della vittoria che era molto frequentata la panchina dai pensionati della zona sarebbe utile riportarla al suo posto nino pare che abbia chiesto anche all'assessore staremo a vedere giovanni debbiase chiede indicazioni per una buona palestra consigli se sono sprecati propone roberto santilli propone al comune di acquistare un'auto elettrica per far circolare in centro ai vigili urbani l'in dana ha il problema dei petardi ragazzi che durante la giornata lì esplodono dalle parti di casa sua disturbano lei e tutti i vicini se cominciamo adesso per capodanno che succederà questa pure poi un'abitudine che forse possiamo anche farne a meno insomma levarcela pure giovanni lanieri ci informa che con delle foto anche che i lavori di sistemazione in piazza del mercato filano via belli spediti dalle foto pare che la ditta stia facendo veramente un bel lavoro stanno rimettendo i san pietrini insomma sembra un bel lavoro chi c'ha tempo ci vada a fare un giro d'annocchiata paola tiraboschi ha pubblicato un sondaggio per sapere se gli spolettini sono a favore o contro lo ius soli uno degli argomenti nazionali che fanno per la maggiore in questo momento da lì da quel sondaggio pare che i nostri concittadini siano in maggioranza contro cioè non vorrebbero approvare lo ius soli e poi c'è un altro sondaggio per finire quello sull'ecomostro le domande erano se fanno bene o male a buttarlo giù parità assoluta 46 per cento dice che fanno bene lo devono buttare giù un altro 46 per cento dice che fanno male una piccola percentuale l'otto per cento quella che rimane si dice non interessata ma per il resto parità piena comunque la regola vuole che il palazzo sia demolito io francamente ci credo poco questa cosa succederà però staremo a vedere con questo buon fine settimana a tutti buona prossima settimana a tutti quanti ci sentiamo ci vediamo al prossimo video